NFC, ossia Near Field Communication, è una parola entrata ormai da più di un anno nelle specifiche di diversi cellulari, ma che stenta ancora a decollare. Molto utile per sistemi di micropagamento, potrebbe assumere interessanti risvolti i consumer. La condivisione di informazioni contenuti tra i cellulari è una di questi, ma Sony ne ha immaginati altri. Al CS, poi successivamente in una demo nella sede di Sony Ericsson a Milano, che concluse le fasi di acquisizione si trasferirà presso Sony a Cinisello Balsamo, abbiamo visto all'opera le Smart Tags. Si tratta di dispositivi NFC che Sony accompagnerà i suoi cellulari di dotati di tale tecnologia. In pratica questi tag possono essere programmati con una serie di azioni da far compiere al cellulare quando avvicinato ad esse. L'esempio più facile da capire è quello pre-programmato come auto, lasciando il tag sul cruscotto della macchina e avvicinando adesso il cellulare quando si sale, è possibile applicare al telefono un dato profilo, accendere il Bluetooth, connettere l'auricolare e accendere l'applicazione di navigazione e GPS, il tutto senza muovere nemmeno un dito sul display. Nello stesso modo, appena arrivate a casa è possibile accendere il Wi-Fi, far partire lo streaming musicale e compiere determinate azioni, sempre senza rimuovere nemmeno il blocco tasti. Si tratta della prima applicazione NFC alla portata di tutti, un modo per avvicinare queste tecnologie finalmente al grande pubblico. Staremo a vedere come verrà colta.